buonasera a tutti 8 giugno 2024 vi volevo far vedere questi bellissimi nidi qui abbiamo due portatori di opale e due opali qui abbiamo un portatore di opale un opale e due femmine brune opale pezzate qui abbiamo cinque portatori di opale sul quarto nido abbiamo tre portatori di opale un opale e una femmina satine portatrice di opale qui abbiamo tre bruni portatori di opale due bruni opali e una opale